Sono felice di venire come amico, come messaggero di pace e come pellegrino nel paese che diede rifugio alla Sacra Famiglia, ha detto Papa Francesco nel videomessaggio inviato al popolo egiziano alla vigilia del suo diciottesimo viaggio internazionale che lo porterà al Cairo il 28 e 29 aprile. È la risposta all'invito del Presidente della Repubblica Al-Sisi di Papa Tawadros II, guida della Chiesa Copto Ortodossa, del grande Imam di Al-Azhar lo Sheikho Al-Tayeb e del Patriarca Copto Cattolico di Alessandria Sedrach. Ne parliamo con il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin. Eminenza, Papa Francesco visita l'Egitto a meno di tre settimane dai sanguinosi attentati alle Chiese Copte della Domenica delle Palme. È un Papa di pace in un Egitto non certo in pace. Quale messaggio potrà portare in una terra che sembra annichilita da tanta violenza? Tanti hanno pensato che il Papa Francesco dopo i sanguinosi e brutali attentati che hanno scosso l'Egitto in quest'ultimo periodo, in queste ultime settimane, avrebbe forse messo in discussione il suo viaggio in quella terra. Invece il Papa non ha mai pensato di farlo, proprio perché il Papa vuole rendersi presente, vuole essere lì dove ci sono situazioni di violenza, ci sono situazioni di conflitto e in questo caso proprio in Egitto. E vuole essere appunto messaggero di pace, messaggero di pace dove c'è più bisogno di pace, dove c'è più bisogno appunto di annunciare e di operare per la pace. Certamente lo farà con la sua parola, avrà occasione di farlo con la sua parola nei vari incontri, ma lo farà soprattutto e prima di tutto con la sua presenza, ecco una presenza di vicinanza, una presenza di solidarietà, una presenza di incoraggiamento. Quindi il Papa va proprio perché ecco l'Egitto ha bisogno di qualcuno che annunci la pace e cerchi di operare per la pace. Il governo egiziano potrebbe fare di più per proteggere le minoranze cristiane dagli estremisti o l'unica strada per fermare il terrorismo è quella dell'educazione delle coscienze e dei giovani? Il governo deve fare tutto il possibile appunto per proteggere i suoi cittadini, i cittadini egiziani a qualunque gruppo sociale, a qualunque gruppo religioso appartengano. Però evidentemente quella del terrorismo è una sfida molto molto più ampia che non si risolve solo a livello di sicurezza o che non si limita solo a livello di sicurezza. È una sfida che impegna a rimuovere un po' tutte quelle che possono essere le cause del nascere, dell'alimentarsi del terrorismo ed evidentemente anche il governo, anche le autorità devono impegnarsi su questo fronte. Un fronte però che chiama, che convoca l'impegno di tutta la società, ecco, quindi la famiglia, quindi la scuola, quindi le chiese, quindi i mass media, ecco tutti hanno una responsabilità per educare alla pace e togliere appunto quelle che possono essere le cause di questo fenomeno, soprattutto nei confronti dei giovani. Quindi dare loro un senso della vita, proporre loro dei valori per i quali vale la pena vivere, impegnarsi e lottare e non invece appunto perdersi in questo vortice di violenza e di distruzione che è davvero insensato. Papa Francesco, insieme al Patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, incontrerà una delle voci più ascoltate dell'Islam sunnita, l'imam di Al-Azhar. Possiamo aspettarci un appello comune alla pace rivolto ai credenti di tutte le fedi? Io credo di sì che ci sarà un appello, si esprimerà un impegno comune, diciamo, dei cristiani e dei musulmani in favore della pace e questo incontro sarà già, diciamo, un esempio e un modello di pace perché appunto sarà un incontro di dialogo. Penso che questa occasione che avrà il Santo Padre di incontrare Al-Azhar e le sue autorità andrà proprio in questo senso, nel senso di riproporre ancora una volta il metodo e la strada del dialogo e dell'incontro come metodo per superare le contrapposizioni e le violenze che possono sorgere purtroppo in nome della religione manipolando la religione stessa. L'incontro con la Chiesa Copta Ortodossa Martire sarà un'altra tappa del cammino dell'ecomunismo e della sofferenza, ma una nuova comunione potrà scongiurare l'esodo dei cristiani da quelle terre? Noi lo speriamo vivamente e credo che è proprio questa, come dire, questo appoggio, ecco, che i cristiani anche d'Oriente, del Medio Oriente devono sentire da parte dei loro fratelli, ecco, diciamo dell'Occidente che potrà aiutarli anche a rimanere nel loro paese nonostante le difficoltà e continuare a dare la loro testimonianza cristiana in mezzo a una società, diciamo, che è di fede islamica nella sua grande maggioranza e io credo appunto che l'apporto dei cristiani sia veramente importante, sia decisivo, possono dare un contributo in tutti i sensi, ecco, che per la costruzione della società e per una convivenza più armoniosa, serena e pacifica anche all'interno della società. E questa comunione, ecco, è in un certo senso cementata e rafforzata e consolidata proprio da quello che il Papa chiama l'ecumenismo del sangue. E questa violenza che si scaglia contro i cristiani in quanto cristiani, al di là delle loro, diciamo, differenze, differenti appartenenze, diciamo, confessionali, ecco, perché credenti in Cristo, perché discepoli di Cristo sono fatti oggetto di questa violenza, torno a dire, davvero brutale e insensata.